Ben trovato a un nuovo appuntamento con Weekend sul Lago e noi oggi partiamo subito presentando il nostro ospite Antonio Rusconi, il sindaco di Valmadrera. Benvenuto. Benvenuto, grazie a voi che ci permettete anche di far conoscere la comunicazione fondamentale di tutte le diverse iniziative del nostro territorio. Sì, ci teniamo assolutamente perché sono anche tante. Mi arrivano complimenti da tutta la Lombardia che dicono cavolo, ma nelle chiese fate un sacco di cose. Questo è vero, questo è vero. Vanno ringraziate le associazioni e i volontari tantissimi anonimi che magari proprio in questi secondi riusciamo a dire grazie a tanti di loro se ci sono belle iniziative sul nostro territorio. Quindi complimenti davvero. Ma noi oggi ci concentriamo su Valmadrera dove ci sono tanti eventi in programma culturali per le famiglie, tante cose, questo weekend e anche la settimana prossima. Sì, venerdì alle 18.30 abbiamo l'ultimo appuntamento degli incontri con gli autori valmadreresi. C'è coloro che hanno cercato, qui è un ragazzo molto giovane, Rusconi Andrea, dedito all'alpinismo, dedito al CAI, all'OSA, molto impegnato anche con la Croce Rossa, che racconta di un suo viaggio in bici sulla via francigena con due suoi amici per raggiungere Roma, le avventure, le disavventure di tre giovani che ricercano anche il senso della fatica per capire i veri valori della vita. Quindi Andrea, grazie di questo tuo contributo. Sabato, a parte le iniziative istituzionali, il nuovo parcheggio di via Monsior Pozzi, abbiamo una giornata a Cascina Guanella. Sapete che Cascina Guanella è un simbolo importantissimo di Valmadrera, con il Don Agostino che è sempre pieno di idee. Di fatto sabato a mezzogiorno c'è un pranzo per le famiglie, alle due la gara podistica ormai è diventata così una routine per i più piccoli, e alle tre parte invece la barabina run che ha il sindaco, sarà solo spettatore, taglierà il nastro, non è molto in forma atletica, però ci saranno atleti. Alberto Cova, che è l'unico italiano che ha vinto sui 10.000 mondiali Olimpiadi europei dall'82-84, è un amico di Cascina Guanella e aiuta anche a fare la vendemmia. Possiamo dire Cadele Evans è il diavolo, chi appuccino è il diavolo, per dire di grazie a questa amicizia per lo sport, per il ciclismo che ha Don Agostino, gli ospiti che correranno sabato a Cascina Guanella e poi ci saranno le premiazioni, la messa con Monsignor Rolla, eccetera. Quindi una bella giornata dedicata alle famiglie, allora venerdì appuntamento culturale, poi una bella giornata dedicata alle famiglie, ma non solo, c'è anche la castagnata. Io vi invito domenica, noi abbiamo questa fortuna con me, di avere gli Amici Parè. Gli Amici Parè sono un'associazione che ha in gestione la casa vicino a Lungolago, sulla via che non casualmente si chiama Viale Cardinal Carlo Maria Martini e noi siamo un po' orgogliosi anche di aver dato questo nome a una figura non solo religiosa ma culturale del nostro tempo e ci sarà la castagnata, sarà possibile fermarsi a giocare, ci sono giochi per i bambini, c'è il pratone a disposizione, quindi per chi vuole fare una passeggiata, per chi vuole mangiare due castagne, per chi vuole fermarsi a conoscere Parè, poi ci sono ristoranti, bed and breakfast, tante occasioni proprio in quella zona. Tanto il tempo è dato bello ancora per domenica e quindi sarà una bella occasione. E poi abbiamo ancora appuntamenti culturali, però andiamo già la settimana prossima. Sì, mercoledì parte 1-3, qui devo ringraziare perché il sindaco non è uno che fa da solo, io ho una squadra di assessori, di consiglieri molto in gamba, l'assessore Rita Bosisio da cinque anni con l'aiuto di Gianni Magistris organizza numerosi incontri per i meno giovani, per cui alle 3 del pomeriggio, per i pensionati, penso che quando smetterò di fare il sindaco, sarò... Andrà a te lei! No, io tutti gli anni sono un relatore perché siccome la mia attività principale, nessuno lo dice, tranne i miei numerosi ex alunni, in bene e in male, è stato fare gli insegnanti italiani e ogni anno tengo una relazione su Ulisse, quest'anno parlerò della misericordia nei promessi sposi, perché tutti parliamo della provvidenza. Il concetto di misericordia che è tanto caro a Papa Francesco, è un concetto che non viene sempre approfondito nei promessi sposi, però 1-3 parte mercoledì prossimo alle ore 15 con il dottor Paolo Danna e il protagonista è Caravaggio, quindi conoscere... Ecco, poi io lì ci andrò a sentire perché io sono innamorato della pittura di Caravaggio e così nei miei anni romani mi consolavo ogni giorno da dove abitavo, vicino al Pantheon, andando a San Luigi dei Francesi, dove ci sono il trittico della conversione di San Matteo, lì davvero direi che è stato un pittore straordinario. L'8 novembre avremo il paesaggio nei promessi sposi con la professoressa Frigerio, ma sono incontri molto diversi, perché ad esempio il 13 dicembre avremo lo chef Claudio Prandi, che è stato lo chef storico degli anni d'oro del Griso, che viene a insegnare i consigli e le ricette per il pranzo di Natale. E penso che lì l'anno scorso c'era tutto pieno, quando è venuto Claudio Prandi, a dire cosa potete preparare. Un'ultima cosa organizzata però non dal Comune, ma da Progetto Valmadrera, però è aperta al pubblico giovedì sera, nella proposta che Progetto Valmadrera, che è la lista che sta governando Valmadrera, la lista civica del corso giovane, ospita sul tema del lavoro per i giovani il professor Pietro Icchino, che oltre ad essere stato parlamentare, senatore, eccetera, penso sia uno dei maggiori esperti in Italia di diritto al lavoro, il Jobs Act è una sua creatura e penso che soprattutto per i giovani sia interessante ascoltare e confrontarsi rispetto a un tema, che è quello del lavoro, che è la prima difficoltà o la prima ambizione o la prima sfida che in genere i giovani affrontano. Grazie, bellissimi eventi, tutto molto interessante. Io ammetto che sono curiosa della sua lezione sulla misericordia nei promessi sposi. Quando è che sarà? Sarà a gennaio, così facciamo passare tutto quello che si sarà mangiato dopo la lezione del professor Prandi, del cuoco dello chef Prandi, per cui a gennaio, mercoledì 24 gennaio. Vengo volentieri. La ringrazio. Grazie a lei per essere stato con noi e mi raccomando, voi vi siete segnati tutti gli appuntamenti per le famiglie, sabato, domenica la castagnata e gli appuntamenti culturali. Noi ci vediamo tra pochissimo con il listone di tutti gli eventi di questo weekend. E partiamo con due appuntamenti con la musica. Per domani sera vi propongo un viaggio artistico musicale per conoscere sotto una nuova luce la Gioconda, con il violinista Gianmaria Belisario e la storica dell'arte Elisabetta Sangalli. Appuntamento alle 20.30 al Cineteatro Ferrari di Galbiate. E sabato sera alle 21 torna a Varenna la musica classica di Young Classics and Talents presso la chiesa San Giovanni. Adesso pronti per una carrellata di appuntamenti con la cultura, sono tanti, mi raccomando, carta e penna. E apro il listone ricordandovi la rassegna autori locali di cui abbiamo parlato poco fa con il sindaco. Venerdì alle 18.30 al centro Fatebene Fratelli presentazione di Diari in Bicicletta di Andrea Rusconi. Poi il documentario sulla montagna montanario You Pond that Mountain venerdì alle 21 al cinema di Andrè di Mandello. Evento nell'ambito del festival di Magimonde. Ovviamente non poteva mancare qui nelle chiese l'attenzione alla montagna. Sempre venerdì a Bellagio una serata dedicata al 60esimo anniversario del terribile disastro del Vaion del 9 ottobre 1963. E venerdì giornata densa anche a Galbiate. Alle 15 visita guidata al birificio Dulac. A seguire alle 17.30 inaugura la mostra Acquarelli a Villa Bertarelli. Alle 18.30 aperitivo in Villa. La mostra resta aperta sabato dalle 9 alle 12. Domenica anche il pomeriggio dalle 14 alle 17. Sabato sarà anche occasione per i ragazzi di prima media di partecipare al laboratorio di pittura tenuto dagli allievi della scuola Gorlini. Passiamo a sabato e parto con gli incontri d'autore alle 15 alla biblioteca Panzeri di Galbiate. Ospite della rassegna questa volta è Angelo Faccinetto che parlerà del suo libro La Mafalda vestita di rosso. E io questo libro lo conosco bene perché l'ho regalato a mia nonna che l'ha apprezzato, mi ha chiesto l'autografo, Faccinetto mi ha fatto l'autografo, per cui ve lo consiglio assolutamente. E noi proseguiamo. Anche Mandello, come la settimana scorsa a Galbiate, propone una serata informativa sull'immigrazione. Il tema si evince dal titolo della serata. L'accoglienza comincia dallo sguardo, l'immigrazione oltre i luoghi comuni. L'evento si tiene sabato alle 19 all'oratorio al teatro di San Lorenzo. E sabato giornata di dibattito anche a Galbiate, tema qui è la vita comunitaria e poi cucina, bar all'aperto e musica. E sempre sabato, ma a Galbiate, libri a colazione, una bella iniziativa. Per me quando si tratta di libri, di lettura, è sempre una bella iniziativa, ormai l'avrete capito. E Libri a colazione sarà presso la biblioteca del paese tra le 10 e le 12. Spostandovi di poco dalla libreria sul Lungolago troverete il mercatino per la giornata della salute mentale che resterà tutto il giorno. E vi ricordo anche oggi che prosegue la mostra volti di Bellano. Poi rievocazione storica invece domenica al Forte di Fuentes di Colico e ancora cultura domenica a Villa Bertarelli al Parco Montebarro. Visite guidate ai giardini storici della dimora alle 11 e alle 17. Mostra di Angelo Gorlista e alle 15 un concerto. E torniamo al Festival Immagimondo che oltre al documentario sulla montagna di Mandello di venerdì propone anche una serata malgrate martedì, quindi andiamo alla settimana prossima, dalle 21 alle 23 il giro del mondo, no, non in 80 giorni ma in bicicletta, pensate, presso il teatro Convegno Parrocchiale. Tutti i mercoledì, poi come dicevamo prima con il sindaco Antonio Rusconi, Val Madrera propone il programma Uni 3. Quindi primo incontro il 18 dalle 15 alle 17 al Fatebene Fratelli con Paolo Danna e Caravaggio un genio ribelle. Per i bimbi appuntamento per i bambini, quindi attenzione mamme, abbiamo Storie nel sacco che compie un anno e quindi a Bellano ci sarà una giornata proprio dedicata ai più piccoli per festeggiare con letture, giochi e merenda. Sabato alle 15 iniziano tutti gli appuntamenti. Sempre sabato, sempre per i bambini, agalbiata al campo dei fiori alle 10 la lettura animata in inglese. E adesso passiamo invece agli eventi per tutta la famiglia, quindi sapete che parliamo di sagre, di divertimento, di feste e quindi prosegue anche questo weekend la rassegna enogastronomica di Colico, buon cibo, vino, convivialità, quindi un bel modo di trascorrere un weekend autunnale. Ma c'è anche la tradizionale Castagnata Pro Vendronio domenica alle 15 alle 17. Qui in concomitanza ci saranno le votazioni del consiglio direttivo che guiderà la Pro Vendronio per i prossimi 4 anni. E festa della Castagnata anche a Tremenico domenica. Ah e non dimentichiamoci della festa di Galbiate, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, mi viene da ridere perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa quando Pippo non c'era, quindi Pippo lo dico anche a te con il sindaco e con il presidente della Proloco e veramente ho passato una puntata a ridere perché mi raccontavano i giochi che verranno fatti domenica. E a Bellagio invece domenica la Saggra, Civenna, a Campsirago, sempre domenica la festa della Burolla con eventi e spettacoli teatrali per tutte le età. Il cinema, vediamo cosa propone il lago per il cinema. Per il fin di sabato e sempre al De Andrè di Mandello, alle 21, a Sassinio, a Venezia. A Bellano, venerdì, sabato e domenica, sempre alle 21, l'ultima volta che siamo stati bambini, diretto da Claudio Bisio. E poi lunedì alle 21 ancora cinema, al Cineteatro di Galbiate con il film drammatico Un Bel Mattino. Vi ricordo la mia e-mail, pippomettila in sovrimpressione, dai, alessandra.giavazzi.chiocciolateleunica.com Vi aspetto, così io sarò sempre più appassionata nel raccontarvi tutti gli eventi che ci saranno e che ci sono sul nostro territorio. Grazie. Grazie.